Alla ricerca del primo acuto in trasferta per dare un segnale forte, mettere insieme altri punti importanti, confermare le ultime due prestazioni positive smussando gli aspetti che non hanno convinto. La squadra infatti va in gol facilmente ma ne subisce troppi, ben 11 finora. È proprio il pacchetto arretrato quello più fragile con l'infermeria che non aiuta mister D'Aversa. Ferrario e Amenta anche stavolta sono fuori causa. In panchina dunque rimane solo un difensore di ruolo e cioè Nunzella. Sentiamo Magnus Trest. Non lo so se è una debolezza, mi sa che pure l'anno scorso abbiamo preso gol sulle palle inattive. Però sì, sicuramente ci dobbiamo lavorare. Secondo me dobbiamo sempre lottare per la salvezza. Secondo me abbiamo una buona squadra con dei giocatori forti, però il nostro obiettivo deve sempre essere la salvezza. Bilancio nei precedenti con i Veneti dall'assoluto equilibrio con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra allenata da Foscarini non vive un buon momento. Dopo il successo col Pescara ha infatti collezionato due sconfitte consecutive a Bologna in casi contro la Provercelli. Per le formazioni Virtus dà la difesa obbligata con Nicola Strepali e poi Conti, Tresta, Aquilanti e Mammarella. A centrocampo tornerà Bacinovic in mezzo supportato da Vastola e Di Cecco. In avanti il tridente Tiam, Cerri e Gatto. Cerri ha raggiunto ieri via Salzomaggiore i compagni di squadra e si prepara a rimpinguare l'esaltante bottino di quota 4 nella classifica a marcatori. I Veneti sono in emergenza, guarda caso anche loro in difesa. Sicure l'assenza di Pellizzere e Signorini. Bisogna valutare però le condizioni di Schenetti e Donazzan. Davanti rientrerà Coralli che supporterà Gerardi insieme a Sgrigna. La gara sarà diretta del signor Rocca di Foggia. Con lui i rossoneri non hanno perso con 4 vittorie e 2 pareggi. Dunque tradizione, almeno questa, favorevole.